È un'occasione per promuovere la miglior qualità di vita possibile, incrementando la piena partecipazione dell'individuo alle proprie attività di vita quotidiana e cercando di ristabilire nel paziente la massima autonomia. Per questo il 6 marzo i logopedisti celebrano la giornata europea, promossa dal Comitato Europeo Permanente dei Logopedisti e organizzato in Italia dalla Federazione Logopedisti Italiani, in collaborazione con le sezioni regionali. Quest'anno l'argomento in primo piano è il disturbo comunicativo nelle celebro lesioni acquisite, e cioè un disturbo che può riguardare la comunicazione, il linguaggio, la memoria o il comportamento e si manifesta in seguito ad una lesione post-natale. I principali quadri patologici invece comprendono la fasia, la disartria, i disturbi cognitivo-comunicativi e le demenze. Le cause possono essere varie, può essere ad esempio un ictus, oppure un trauma cranico, oppure anche le malattie neurologiche degenerative, quali la SLA, la sclerosi multipla, le demenze, oppure anche un tumore cerebrale, ma anche i meningiti. Quindi a seconda della causa, a seconda della lesione che avviene a livello cerebrale, si possono avere conseguenze diverse. Quello di cui ci occupiamo noi particolarmente è la parte comunicativa e linguistica. Qual è invece l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo della giornata è proprio di diffondere informazioni per tutta la popolazione e per gli utenti anche, su quelle che sono queste tipi di problematiche e chi se ne occupa. Quindi diffondiamo degli opuscoli che abbiamo prodotto anche noi come regione, nelle farmacie, negli ospedali, negli ambulatori vari e oltretutto dei numeri di telefono ai quali rispondono per ben sei giorni dei logopedisti preparati proprio su questo settore. Ma si possono fare domande diverse anche di altro genere, non soltanto riguardando la problematica di cui discutiamo quest'anno, che sono le problematiche comunicative e linguistiche nelle cerebrose lesioni acquisite, ma anche altri tipi di problematiche che noi trattiamo. C'è anche un numero verde nazionale? Sì, c'è un numero verde nazionale che risponde dal 3 al 13 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, il numero è 049 8647 936, poi dopo rispondono dal nazionale ma che poi dopo trasmettono le stesse telefonate ai nostri numeri regionali. Sì, c'è un numero verde nazionale.